Martedì 25 aprile alle 21.20 è stato trasmesso in esclusiva assoluta su Rai 2 e 50 modi per far fuori papà che ha visto protagonisti Francesco e Robby Facchinetti in un folle viaggio in Lapponia postellato di momenti esilaranti, scherzi, pazzie sulla neve e tantenizzato. L'ex DJ Francesco ha rapito, per modo di dire l'ex leader dei Pooh, per trascorrere con lui quella vacanza padre e figlio che non hanno mai avuto. I due non hanno visto soltanto l'aurora boreale, ma si sono cimentati anche nelle tipiche attività, nelle gelide terre di Babbo Natale, Facchinetti se ne ora è stato costretto a farsi trascinare sugli isci dalle rene sebbatiche, a mangiare pancake al sangue di renna, a salire su un girocottero e ancora a pescare scavando nella costa agghiacciata. Il programma ha avuto talmente tanto successo sui social che sono piovuti centinaia di tweet e commenti anche da amici e parenti della strana coppia. Alessia Marcuzzi cinguettato, ecco papà Francesco Facchinetti, non vediamo l'ora di vederti con Robby a fare danni per 50 modi. Max Biagio ha fatto sapere, porta anche me la prossima volta, rivolgendosi a Francesco Facchinetti, amo quei posti, Robby Facchinetti hai tutta la mia solidarietà. E mi schilla ha aggiunto, te pareva che quel brianzolo matto di Francesco Facchinetti non si inventava qualche altra follia. Selvaggia Lucarelli, mancelando forse un pizzico di sana invidia per l'avventura on ice di Francesco e Robby Facchinetti, ha scritto, io ho dovuto rifiutare 50 modi perché mio padre, quando gliel'ho proposto, ha trovato 50 modi per mandarmi a cagare. Infine riportiamo il commento del sopravvissuto tastierista dei Pooh che ha ringraziato il figlio su Twitter e gli ha detto, grazie per questa fantastica vacanza!